Senatore D'Alfonso, lei in conferenza stampa ha parlato di una questione che sicuramente sarà non ripetibile. In futuro bisogna accelerare per innovare anche la Regione Abruzza grazie al Recovery Plan. Sono risorse irripetibili, come ho spiegato, per quantità e qualità e anche per il livello elevato della sfida. Noi abbiamo circa 3 miliardi di euro disponibili per i recovery e un miliardo per quanto riguarda la programmazione settennale nei rapporti Abruzzo-Italia-Europa. Su questi 4 miliardi di euro vanno fatte scelte prioritarie. Noi abbiamo messo a segno, con un lavoro fatto di anni, la cura del ferro nella Pescara-Roma, la cosiddetta ferroviarizzazione Pescara-Roma. Sono stati messi in sicurezza le grandi infrastrutture autostradali, grazie alla concentrazione di risorse e di procedure. Partiranno presto i cantieri. Accanto al trasferimento delle merci e delle persone c'è l'altra grande priorità, il trasferimento delle conoscenze destinate alle scuole, alle università e alla salute, per la salute. Noi dobbiamo determinare il cablaggio di scuole, università e strutture ospedaliere per fare in modo che non ci sia più interruzione nell'offerta scolastica, formativa, educativa, universitaria e neanche nella possibile offerta di salute riferita, per esempio, alla telemedicina. Tutto questo può essere se ci sono queste infrastrutture capaci di connettere. Noi abbiamo la digitalizzazione dei suoli, ma le strutture dove si erogano servizi a domanda individuale e collettiva sono povere tecnologicamente. Un miliardo di euro. Il 30% di tutte le risorse devono assumere come bersaglio il cablaggio, il trasferimento di tecnologia, anche degli edifici, anche dell'edificato verticale che ospita le comunità o in formazione, o in educazione, o in attività universitaria, o in attività destinata alla cura. Su questo lei ha stimolato anche l'attuale governo regionale. Io ho detto, attraverso queste mie parole e documenti che metterò in cammino, mettiamoci insieme per riordinare l'atteggiamento che si deve tenere nei confronti delle risorse del recovery. Non 163 priorità che significa nessuna priorità, ma una, due, tre priorità, basta, non oltre.